Reggio Alvaio della Cassazione, il filone abbreviato del processo nato dall'inchiesta Terra Mara Closed, l'unica parte dell'impianto accusatorio della Procura Antimafia di Reggio Calabria, che non ha trovato conferme nei vari gradi di giudizio, e quello relativo alla posizione dell'ex sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, difeso dagli avvocati Giuseppe Alvaro e Rocco Iorianni. L'ex amministratore conclude la sua vicenda giudiziaria con una soluzione completa. In parziale riforma della sentenza di secondo grado, la Cassazione ha condannato Domenico Fazzolari, classe 74, a 13 anni e 6 mesi e 20 giorni, Salvatore Fazzolari, classe 67, 16 anni e 8 mesi, Agostino Condomitti, 11 anni e 9 mesi e 10 giorni, e Domenico Moscato, 2 anni e 10 mesi. Rigetto dei ricorsi intentati dalle difese e condanne di appelli confermati per gli imputati Francesco Avati, 3 anni di reclusione, Agostino Canfora, 8 anni, Michele Fazzolari, 11 anni e 8 mesi, Domenico Antonio Fazzolari, 8 anni, Rocco Lazzaro, 10 anni, Carmelo Maiolo, 11 anni e 8 mesi, Giuseppe Talotta, 5 anni. Dichiarati invece inammissibili i ricorsi di Domenico Rettura, 3 anni, Giuseppe Naso, altri 3 anni, i quali sono stati anche condannati al pagamento delle spese. Annullata con rinvio la sentenza di secondo grado per Giuseppe Sposato, solo in merito all'accusa di associazione mafiosa per la quale lo attende un nuovo processo d'appello. Tutte le altre contestazioni di intestazione fittizia sono state annullate dalla Corte. E' stata assolta invece Giovanna Sposato. Annullamento senza rinvio per Domenico Romeo e Antonio Romeo.